In un freddo gennaio, una coppia si trasferì in una nuova casa. Gli eventi a cui assisterete sono tuttora senza spiegazioni. Questa cosa non può essere umana! Investighiamo su attività paranormali. In questa casa si respira un'aria pesante. Sì! Beccato dritto, dritto nelle palle, fantasma di sto... Sono Chip. Tu devi essere Malcolm. Esatto, sì. E tu come lo sai? Sono un sensitivo. Ho un sacco di poteri fuori e dentro il mio corpo. Fin dove vuoi arrivare per scacciare questo demone? Fino in fondo. La pallina dove va? Non staremmo esagerando? Credimi ti farà sballare, provalo. Sì, lo provo. Oh mio Dio! Che c'è? È strafichissimo! C'è un'esercita! Ci vuole l'esorcista! Oh, è la sorella di Spider-Man! Sono padre Doug e sono qui per liberarti. Come si collegano questi segni? Un, due, tre! Filotto! Il diavolo ha fatto il botto! Ghost movie! L'alito è una fogna! C'è il diavolo dentro e c'ha pure cagato! Oh, è la sorella di Spider-Man! 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 Grazie a tutti.